Stiamo parlando di racconti costruiti mescolando materiali di natura diversa e RAI ha deciso di riprendere la sperimentazione su questo genere che avevamo iniziato qualche anno fa proprio qui ma poi avevamo interrotto. Su RAI 3 fece notizia all'epoca, tanti anni fa, Residence Bastoggi, una serie docu che avevamo fatto seguendo per sei mesi un gruppo di rapinatori adolescenti della periferia romana. Poi abbiamo fatto Scacco al re, la storia della cattura di Provenzano dove abbiamo mescolato materiali di indagini e ricostruzioni in fiction. Poi ancora abbiamo iniziato un progetto più impegnativo, una miniserie sulla vita di Tommaso Buscetta. In giro per il mondo abbiamo raccolto del materiale formidabile, ad esempio un filmino in VHS del suo 64esimo compleanno invece che 15 ore di registrazione audio in cui Buscetta racconta tutta la sua vita un anno prima di morire. Un sacco di lavoro per trovare questo materiale, per scrivere poi però cambio al vertice, altra linea editoriale e all'attivazione non è seguita la produzione. Adesso abbiamo ricominciato e sono convinto si possano fare dei bellissimi film tv oppure delle bellissime serie intrecciando fiction, realtà e documenti originali secondo infinita alchimia. Il linguaggio del cinema e della fiction è in continua evoluzione, cambia veloce. La verosimiglianza dei personaggi, della lingua, degli scenari è sempre più ricercata e sempre più apprezzata. Cosa c'è di meglio ad esempio in un racconto noir di una intercettazione telefonica che ti fa sentire la voce vera di un boss oppure del primo piano di una ragazza mentre le arrestano il marito? Un primo piano che ha una forza che nessun attore riuscirà mai a restituire. L'augurio è che in futuro si riesca a liberare della creatività, a cercare nuove strade e nuovi formati. Perché in Italia per lo più compriamo i formati invece che venderli? Forse siamo più banali degli olandesi o degli spagnoli. Certo nel passato siamo stati vittime di un sistema televisivo anomalo che ha depresso il prodotto. Ora però qualcosa si è mosso, il sistema sta cambiando, le linee editoriali sono in mano a persone competenti, appassionate. Forse una volta possiamo essere un po' ottimisti. Grazie.